2.500 borracce per 2.500 studenti dell'Istituto Comprensivo di Cittadella in sostituzione delle bottiglie di plastica normalmente in uso. Anche la città murata si allinea così a molti comuni e al pensiero sempre più green. È un modo per insegnare ai ragazzi che certe cose possono essere riutilizzate, che il mondo non è fatto solo di rifiuti, quindi di utilizzare e poi buttare via, ma certe cose possono essere utilizzate più volte, non solo da se stessi ma anche da parte della famiglia. Un pensare al futuro che quest'anno si espande. Quest'anno Cittadella fa un passo in più, nel senso che ha cercato di mettere in contatto aziende, aziende che hanno una sensibilità per l'ambiente, la scuola, non solo le scuole primarie ma anche le scuole superiori. Questo è il nostro futuro, dobbiamo insegnarlo ai nostri ragazzi partendo dai più piccoli per arrivare fino a poi ai più grandi, per far capire che l'ambiente, la zona, il mondo dove viviamo è fondamentale non solo per noi oggi ma anche per quelli che arriveranno dopo di noi. Grazie. 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 Grazie.